primo giorno di preparazione si comincia mister con quale spirito con lo spirito del dell'entusiasmo prima di tutto perché si continua a fare un lavoro che ci piace lo si continua a fare con in un ambiente che ho sperimentato è un ambiente che da emozioni è da piacere lavorare lo si inizia a fare con una squadra totalmente nuovo e questo nell'attenzione nel saluto di chi c'era prima è comunque un qualcosa che regala stimoli nuovi a chi a chi lavora per cercare di conoscerci e di capire le nostre potenzialità e poi cercare di raggiungere il nostro massimo nella parola squadra nuovo ovviamente intendi anche lo staff molto rinnovato rispetto alla scorsa stagione sì per vari motivi insomma siamo arrivati a costruire uno totalmente nuovo so di lavorare con persone che ho già conosciuto di cui conosco non solo la qualità tecnica ma anche la grande capacità relazionale come ci siamo già detti insomma la conoscenza non dà il diritto di credere che tutto sia già rodato siamo una nuova squadra anche noi una squadra che dovrà diventare forte per essere a servizio della squadra che andrà in campo è ancora presto ovviamente per parlare di obiettivi però mi piace ripartire da un'espressione che tu hai usato con i ragazzi proprio oggi sei molto carico sì sono carico perché pensando al nuovo che che ci aspetta è un campionato ancora più impegnativo dello scorso anno sulla carta ma soprattutto come dicevo prima insomma tutte queste facce nuove ti obbligano a studiare ancora di più e a mettere in pratica nell'adattamento le proprie idee e questo da sempre motivo di miglioramento sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano perché tante persone nuove c'è l'obbligo di di andare verso queste persone e di fare richieste di conoscersi di capire di ascoltare e questo è un qualcosa che da sempre mi ha emozionato nel mio lavoro e quest'anno qua insomma mi si prospetta da questo punto di vista qui una una stagione molto impegnativa è molto emozionante si inizia con pochissimi giocatori 5 questo vuol dire che ce ne sono tanti di bravi perché stanno preparandosi per gli europei per tornare internazionali con le nazionali sì sì questo qui è sempre le assenze in preparazione insomma la si possono leggere da da tanti punti di vista mi piace proprio quello che appena sottolineato tu vuol dire che stanno lavorando con il proprio nazionale quindi già ad un bel ritmo in ambienti a livelli tecnici professionali di altissimo livello e quindi fanno della buona palavoro noi cercheremo di essere un po pronti per per quando loro arriveranno per amalgamarci però insomma intanto siamo contenti che loro sanno là e che possono fare una buona preparazione per le manifestazioni per le quali si stanno preparando e di essere protagonisti in campo e quando non gli sarà data la possibilità di essere protagonisti nel gruppo e perché sono qualità che comunque è bene sempre tenere allenate anche quelle ultima cosa nella tua prima stagione l'anno scorso in un periodo simile avevi parlato di magia per l'inizio di stagione in questo caso nella tua seconda stagione la parola d'ordine o la parola chiave qual è domandona io dico che ma penso che è come il contadino che prepara il terreno per una nuova simile no e questo è proprio quello che in questo periodo qui andremo a fare siamo convinti nei tanti cambiamenti che abbiamo fatto di aver seguito un processo corretto e tuttavia non siamo così presuntuosi da essere sicuri di averci azzeccato tutto e saremo comunque abbiamo la speranza che insomma di aver fatto un buon lavoro e di far poterlo far vedere ai nostri ai nostri tifosi